Partita interessante in ottica pool promozione tra la nuova Conte Caviano e il tricesimo con la squadra ospite ancora in piena corsa per l'accesso alla seconda fase parte meglio però la squadra di casa con Pivetta e con la tripla di Severino prova a rispondere allora tricesimo con il suo leader Gozzi da notare anche le grandi assenze della squadra ospite con Boaro, Bravin e Sandrini fermi ai box altro canestro per Gozzi ma Bomben chiude il primo quarto con Aviano in vantaggio 17 a 9 Damianovic scarico in angolo per Simone Pivetta che trova altri due punti Gozzi con un altro tiro impossibile prova a tenere lì la squadra ospite squadra ospite che sprofonda però sotto una pioggia di triple di Aviano prima con Galli poi con Maki Bomben e infine con Petar Damianovic su assist splendido di Maki Bomben tripla del numero 10 che manda tutti all'intervallo sul 35-18 con Aviano in pieno controllo della partita tricesimo prova allora ad accennare una reazione inizio terzo quarto con Zuliani e Clemente che si gira benissimo sul piede perno ma davvero non ce n'è gioca davvero meglio la squadra di casa trova altri due punti con Maki Bomben poi con questo tiro di Severino cadendo all'indietro a fine terzo quarto Aviano è in vantaggio 47 a 28 nel finale spazio per tutti i due punti anche per Francesco Cascino si gira benissimo Simone Pivetta altri due nella sua partita chiuderà quota 12 il numero 6 assist splendido in contropiede di Bomben per Fabio Pivetta si danno anche il 5 i due compagni di squadra jumper di Bomben bellissimo canestro del numero 14 partita chiusa da questo canestro dall'angolo di Davide Galli con Aviano che trova due punti importantissimi in ottica pull promozione vince col punteggio di 65 a 40 15 per Galli 12 per Pivetta